ciao e benvenuto su wordpress 1 2 3 in queste breve video rispondo una domanda che mi è stata posta molte volte ovvero come è possibile velocizzare il proprio sito in wordpress la velocità di navigazione è fondamentale per vari fattori non è importante solo per non far scappare gli utenti annoiati nell'attesa ma anche per il posizionamento sui motori di ricerca visto che uno dei parametri che considera google per il posizionamento è anche la velocità di risposta del sito uno dei metodi sicuramente tra i più semplici da implementare è attraverso il web caching del proprio sito te lo assicuro non è una parolaccia e ora ti spiego anche nei dettagli di che cosa si tratta il caching lo fanno di default già la maggior parte dei browser quindi in qualche forma sia che tu stia usando chrome safari piuttosto explorer firefox opera lo stai già usando ovviamente il tipo di caching di un browser e di un server sono differenti ma il fine di entrambi è lo stesso ovvero rendere più veloce la navigazione lato utente la cosa funziona più o meno in questo modo ad esempio quando visiti un sito con delle immagini il browser le salva sul tuo disco fisso e le conserva per un periodo di tempo predefinito se torni su questo sito dopo poco tempo il browser se ne accorge e se le immagini non sono cambiate non le scarica dalla rete ma le carica dal tuo disco fisso e questo rende la navigazione più veloce e così con tanti altri elementi di un sito web la tua server la cosa è differente un sito in wordpress non è formato da pagine statiche ma i contenuti sono in un database e le pagine vengono create dal server quando l'utente clicca e ne fa richiesta questo implica un maggior uso di risorse di calcolo da parte del server con dei tempi di risposta leggermente meno immediati ovviamente i vantaggi di un sito basato su un database sono innumerevoli quindi non si pone neppure la questione di tornare a un sito statico inoltre ci sono degli strumenti che ci consentono di ovviare a questi problemi uno di questi è v3 total cache un plugin gratuito per wordpress che ci consente di rendere sensibilmente più veloce il nostro sito creando appunto una cache di pagine oltre a comprimere i dati prima di inviarli in modo che il trasferimento sia più veloce ma vediamo come fare prima di installare il plugin andiamo a verificare la velocità o la lentezza del nostro sito su pingdom scendiamo in basso e clicchiamo su pingdom tools a questo punto inseriamo l'url del nostro sito di prova www.123test.it e clicchiamo su test now in questo caso il risultato non è stato affatto male però ricordiamoci anche che è un sito praticamente vuoto e di conseguenza veloce detto questo andiamo a ottimizzarlo comunque apriamo il nostro sito dal menu plugin selezioniamo aggiungi nuovo v3 total cache e clicchiamo su cerca plugin vediamo che la valutazione è molto alta clicchiamo su install adesso e confermiamo attiviamo il plugin e ora vediamo che qui sulla barra dei menu di sinistra appare una nuova voce performance da qui puoi partire per configurare al meglio il tuo nuovo plugin la configurazione di questo plugin non è semplicissima ma non ti perdere d'animo ho preparato una guida passo passo che puoi scaricare cliccando qui sotto quindi ora io lo configuro offline tu puoi scaricare la guida seguire passo passo e configurare il tuo sito e ci vediamo tra poco benissimo il plugin è configurato quindi proviamo eseguire nuovamente la prova di velocità vp123 test.it e clicchiamo su test now vediamo siamo passati da 1,90 secondi quindi 1900 millisecondi a 382 millisecondi il risultato è assolutamente lusinghiero nonostante questo sito sia vuoto e quindi i benefici sono assolutamente erisibili ma sul tuo sito sono certo che vedrai una differenza notevole anzi lasciami qui sotto un commento con i tuoi dati prima e dopo se questo video ti è piaciuto l'hai trovato utile puoi iscriverti al mio canale youtube per non perderti prossimi se inoltre credi che possa interessare a qualche tuo amico condividilo con lui per ora è tutto ti auguro una buona giornata e ti do appuntamento al prossimo tutorial ciao